No, siamo in Campania, scusate, io stavo un attimo assaggiando, volevo verificare l'attendibilità della notizia, insomma, in questo laboratorio artigianale non potevo non approfittare per raccontarvi proprio la storia di Giuseppe Mascolo e di Annibole Memmolo, adesso andremo a presentarveli, che hanno vinto per le rispettive categorie, panettone artigianale e panettone al cioccolato, la Coppa del Mondo. Giuseppe, però io vorrei partire, prima di raccontare questa grande esperienza che avete fatto, nel raccontare un po' gli ingredienti tipici del panettone, come si fa un panettone? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, per fare un buon panettone la prima cosa ci vuole un buon lievito madre, il panettone nasce proprio dal lievito madre, se non si ha un grande lievito non si può fare un grande panettone, si fanno dei rinfreschi sul lievito e poi la sera si va a impastare il lievito con un sciroppo di acqua e zucchero, farina e dei tuorli, poi si fa impastare bene, si fa incordare l'impasto. Dico, chi non lo sa fare? Esatto, una pratica molto semplice che però ha portato a questa meraviglia, no? Questo è il panettone tradizionale di Giuseppe che ha vinto la Coppa del Mondo di panettone, mentre per la categoria panettone al cioccolato ha vinto Annibale, un'idea che hai partorito dopo mesi di lavoro, quando hai saputo che saresti stato in finale, ce lo racconti questo panettone? Sì, questa idea è partita dal mese di maggio perché a giugno c'erano le selezioni per la finale della Coppa del Mondo del panettone al cioccolato, a giugno ho mandato il panettone a Milano e poi mi è arrivata una scheda di valutazione del panettone su cui ho studiato tantissimo, mi sono messo e ho guardato tutti i difetti che c'erano. Questo panettone è fatto con massa di cacao e pasta di nocciola nell'impasto e poi all'interno come inerti c'è il cioccolato al 61% e il cioccolato al 35% al latte. Ecco, insomma, una ricetta anche qui non proprio semplice, pensate che Giuseppe l'anno prima aveva vinto, era arrivato secondo nella categoria panettone al cioccolato, quindi c'è speranza per Annibale che l'anno prossimo si vinca il premio più ambito. Certo, è quello più ambito, quello tradizionale. Fatemi capire come funzionano i campionari del mondo di panettone, io devo dire che signoravo anche che esistessero, ma è bello potersi confrontare anche sul panettone. Come funzionano? Cioè la categoria più importante è quella del panettone classico e quella meno importante è quella del panettone al cioccolato, non ho capito? È così? Sì, sono due categorie, chiaramente questa è una Coppa del Mondo ideata da Giuseppe Piffaretti, ci vuoi spiegare appunto come funziona? Allora appunto noi abbiamo 5 continenti e 11 nazioni, quest'anno avevamo anche un concorrente dall'Africa, facciamo le selezioni in tutto il mondo, si qualificano 24 finalisti, è un po' più scuro degli altri ma è buono. Vabbè dai su, loro tra l'altro circa, cioè non è che fanno le loro ricette, Serena, cioè non è che il panettone all'Algeria lo fanno a modo loro, loro devono cercare di fare il panettone tradizionale italiano e poi si presentano in Italia con il loro prodotto. Sì, sono 24 finalisti per il tradizionale e 18 per il cioccolato perché comunque il panettone è il prodotto di pasticceria più difficile in assoluto da fare perché ci vuole una maestria, bisogna conoscere tutti gli ingredienti, le reazioni e noi diciamo sempre che siamo contenti quando li vediamo cotti che non si staccano dal pirottino, che stanno su e diciamo ce l'abbiamo fatta anche stavolta, ma ogni volta è sempre un'avventura. Tra l'altro quest'anno il presidente di giuria è Reginio Massari, quindi insomma nomi eccellenti, che giudice è? È un giudice severo però è giusto che per una Coppa del Mondo sia così. Poi abbiamo dei concorrenti molto particolari, il più particolare secondo me è quello giapponese perché nelle due edizioni abbiamo avuto il primo, stavamo tagliando il panettone, il famoso vento del sistema giapponese, non conosce il panettone giapponese. Stavamo tagliando il panettone, ci ha fermato, ha voluto che utilizzassimo il suo coltello perché gliel'aveva regalato l'imperatore, mentre quest'anno abbiamo avuto un concorrente che non ha l'acqua corrente, quindi usa l'acqua del pozzo e ha usato anche, essendo vicino al Monte Fuji, ha usato anche la neve sciolta per impastare il suo panettone. Se siete d'accordo qui procediamo al taglio, insomma assaggiamo anche per voi queste meraviglie. Vabbè, tutto abbastanza insopportabile.